Prossegue nel migliore dei modi la stagione del giovane pilota sul monese Cristian Micochero. Dopo il brillante debutto nelle due precedenti gare a Misano e a Imola, lo scorso fine settimana è stato impegnato nel terzo round del trofeo Bridgestone, di nuovo al circuito Marco Simoncelli. Cristian Micochero ha conquistato un'ottima quinta posizione nella classifica assoluta dopo che in sella la sua Yamaha R6 per la categoria Stock 600 nella giornata di sabato aveva affrontato in maniera eccellente le due prove di qualificazione superate con un'ottima quarta posizione e con la conquista del best lap. Il pilota sul monese domenica è partito in gara in quarta posizione e ha fatto registrare uno start rilevante allo spegnersi del semaforo ha lottato sino all'ultimo giro con il Veneto Alessio Toffalin e l'Emiliano Manuele Cassani per conquistare il terzo posto. Dopo un susseguirsi di scambi di posizioni, Micochero ha centrato il quinto posto ed il primo nella categoria Under 25 prendendo punti per il campionato. La sua avventura a quel che rappresenta l'unico campionato monogomma dopo la MotoGP che si tiene all'interno della Coppa Italia proseguirà il 10 e l'11 agosto all'autodromo Borsacchini di Maggione in provincia di Perugia, l'8 settembre all'autodromo di Vallelunga e il 6 ottobre al Mugello.